Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini. Oggi qui per raccontarvi una storia che arriva dal testo di padre Marcellino Iassenzaniro che nelle sue testimonianze che ha raccolto ci descrive la situazione di una donna che era in seria difficoltà, una sua figlia spirituale di padre Pio, Giovanna Russo. Giovanna si accingeva a fare un viaggio e come una buona figlia spirituale sale qui in convento per prendere la benedizione di padre Pio, siamo nel mese di febbraio, faceva molto freddo, dopo la confessione Giovanna disse padre vado a trovare la zia, la zia suora che sta vicino a Pompei, partiremo intorno alle 13 con la corriera, sia io che mio fratello e padre Pio le disse subito, tu non vai da nessuna parte. No padre ma io devo andare, abbiamo telefonato, abbiamo prenotato, abbiamo già preparato tutto, quindi devo per forza partire, ma non è tempo di viaggiare, c'è ghiaccio per terra, disse padre Pio, fa freddo, tu andrai a primavera, stai tranquilla. Giovanna volle insistere, ma di nuovo padre Pio replica, tu non vai da nessuna parte, ho detto hai capito testa dura? Ebbene chiuse immediatamente lo sportello, chiaramente si fa riferimento allo sportello del confessionale, dopo la confessione quindi le comunico questo la ragazza, però la ragazza rimasta poi solo a pregare in chiesetta decise di ascoltare padre Pio, vide sul piazzale la cugina immacolatina e la pregò di accompagnarla a casa perché cominciava a sentirsi male, non stava tanto bene, avvertiva dei dolori all'addome e volle anche sfogarsi con quello che era successo prima con padre Pio, arrivata a casa ma si manifestò anche ai suoi genitori la decisione di non partire, riferendo così del colloquio di padre Pio, poi si mise a letto, intanto questi dolori crescevano col passare dei minuti fino a diventare lancinanti, fu chiamato il dottore che le diagnosticò un'appendicite con peritonite. Il fratello di Giovanna immediatamente andò subito a riferire tutto a padre Pio per vedere il da farsi, qui a San Giovanni Rotondo funzionava solo un piccolo ambulatorio perché si stava costruendo la casa sollievo della sofferenza. Padre Pio per nulla sorpreso disse immediatamente andate a prendere l'ambulanza della clinica, scendete a Foggia e passate per il convento dei Cappuccini di Sant'Anna, chiedete di padre Clemente, lui è il cappellano dell'ospedale, fate quello che lui vi dirà. Allora così fece, Giovanna ricoverata immediatamente in ospedale dopo le prime cure fu del tutto trascurata e quando i familiari si domandarono quali fossero le condizioni della malata si sentivano sempre rispondere da loro la stiamo preparando all'operazione ma il giorno dell'intervento non arrivava mai, allora la povera ragazza cominciò a pensare al peggio, anche perché aveva sentito anche una suora che tra i denti la portassero a morire a casa, allora chiese un foglietto a sua cugina immacolatina e scrisse testuali parole, vado sul vigolettato, dite a padre Pio che se la malattia è per me la morte io voglio morire a casa, voglio tornare a casa, voglio tornare a San Giovanni. Padre Pio lesse il bigliettino, chiamò padre Ferdinando da San Marco in Lamis, lo mandò a Foggia e disse vai a vedere quella figliola che fa, se non è possibile l'operazione portatemela qua da me, vedrò io che cosa fare. E subito il padre superiore andò, si mise in contatto telefonico con il professore il quale rispose assicurate padre Pio che la ragazza sarà operata domani. Allora in realtà l'intervento ci fu l'indovani, tutti pensarono che ci fosse qualcosa di molto serio, la ragazza stessa quando al risveglio si vide anche intubata, disse alla suora è una cosa brutta, è una cosa brutta, ma la sera dell'operazione si sentì, proprio quando lei diceva è una cosa brutta, si sentì appioppare un vero e proprio schiaffo che si tramutò, scrive padre Marcellino nel suo libro, in una vera e propria carezza. Ecco chiese ai familiari chi fosse stato a darglielo, nella camera però quando lo ricevette non c'era nessuno, quello che diceva la povera malata si attribuiva allo stato di disagio e l'estrema debolezza che le stava passando, però dopo alcuni giorni fu dimessa, una volta a casa il suo primo desiderio era quello di venire qui salutare padre Pio e accompagnato da padre Pellegrino appena la vide le fece dare immediatamente una sedia. Grazie padre, grazie per tutto quello che avete fatto per me, disse Giovanna e padre Pio rispose, non mi dici nient'altro Giovanna? Giovanna andò con la mente proprio a quella speciale carezza, ovvero quello schiaffo che poi si tramutò in carezza, ricevuta la sera dell'operazione, dell'intervento in ospedale, in camera dell'ospedale e aggiunse grazie della visita padre e padre Pio, ah finalmente ora ci sei arrivata.